Assessore, lei ha preso posizione rispetto a quello che è successo, è un caso che ha suscitato tanta attenzione anche nel nostro territorio. Sì, certamente. Io sono contraria, come tutta la nostra amministrazione, a ogni forma di discriminazione. Discriminazione sessuale, discriminazione politica, qualunque tipo di discriminazione. Tanto più siamo contrari a ogni forma di violenza. Quindi io posso assicurare che faremo di tutto per cercare di eliminare questi episodi. Cerchiamo di sensibilizzare soprattutto i giovani verso il rispetto degli altri. Quindi Arezzo è e rimarrà una città civile, una città sensibile, una città che condanna sempre e condannerà ogni forma di discriminazione e ogni forma di violenza. Pensa di far rientrare o di portare questa proposta di rientrare nella rete Redi? Ci stiamo pensando. Vediamo. Ci stiamo pensando. Ci stiamo pensando.